attenzione a tutti gli star seed canalizzato da aurora rei voce e traduzione aura quinta dimensione letture attenzione a tutti i semi stellari la nostra federazione galattica ha un comunicato urgente in merito a una connessione tra le forze di luce pleiadiane e i campi magnetici del pianeta terra nel caso non sapessi di cosa sto parlando i pleiadiani sono esseri guerrieri molto antichi che vennero sulla terra milioni di anni fa per aiutare a guidare il nostro pianeta attraverso le sue varie evoluzioni e fasi di sviluppo sono in contatto diretto con loro ormai da molti anni e sono a conoscenza di alcune informazioni inimmaginabili sono entusiasta di condividere con voi questo messaggio sulle energie di quinta dimensione e sul perché è importante aumentare la vostra vibrazione le forze di luce pleiadiane stanno irradiando livelli estremi di plasma bianco magnetico gamma di quinta dimensione nell'atmosfera del pianeta terra per stimolare tutti i semistellari qui presenti ad entrare nella quinta dimensione dicono le forze della luce pleiadiana ciao amici starseed voglio solo farvi sapere che l'attesa è finita l'onda di energia di quinta dimensione è qui siamo nelle prime fasi di adattamento a questa incredibile energia ed è tutta una questione di essere pronti alcuni semistellari sono stati in grado di adattarsi a questa energia ma altri non sono ancora pronti per condividere il divertimento vedete dipende tutto dal vostro livello di frequenza che può essere innalzato ottenendo sufficiente pace interiore attraverso pratiche spirituali e meditative secondo le mie comunicazioni dirette con le forze di luce pleiadiane durante le mie meditazioni profonde un'onda di energia al plasma super di quinta dimensione viene riversata sulla terra proprio ora molte navicelle a reazione avanzate sono state viste entrare nel nucleo galattico allo stesso tempo molti portali in tutto questo sistema solare si stanno aprendo con l'obiettivo di trasferire più esseri di luce dal nucleo galattico al pianeta terra di quanti ne abbiamo mai visti prima il velo è quasi sollevato e la nostra ascensione è finalmente prevista per questa undicesima era voglio anche condividere con voi che ultimamente molte persone hanno avuto delle esperienze extracorporee a mio avviso i pleiadiani sono stimolati dalla nostra disponibilità spirituale si irradiano a una frequenza più alta dell'energia del plasma di quinta dimensione e creano un aumento del numero di attivazioni del sogno il processo di ascensione sta accelerando e sempre più persone vivranno l'esperienza del risveglio mentre stanno ancora sognando infine la terra è pronta per il processo di passaggio dalla terza alla quinta dimensione la frequenza vibrazionale cioè la velocità con cui l'energia si muove attraverso un oggetto del pianeta è aumentata e sta cambiando di conseguenza stanno avvenendo più cambiamenti a tutti i livelli della vita su questo pianeta il nucleo del pianeta terra sta effettivamente accelerando nella sua rotazione spostandolo su un'orbita più alta in modo che possa allinearsi completamente con il sole a cinque dimensioni lo stesso è successo alla maggior parte degli altri pianeti nel nostro sistema solare e oltre passano anche ai lavori più alti questi eventi sono stati predetti da molte antiche civiltà e sono intesi dalle moderne comunità spirituali come ascensione questo sta accadendo entro la finestra temporale finale per l'evoluzione orbitale che questo pianeta sperimenterà per quelli di noi che si sono preparati attraverso esercizi di ascensione siamo pronti questa energia di quinta dimensione sarà qui per tutto il 2022 e anche nel 2023 e che cosa significa significa che non c'è tempo da perdere se vuoi aumentare la tua frequenza con l'energia di luce di quinta dimensione in arrivo so quanto può essere difficile aumentare la frequenza dell'energia specialmente quando ci sono così tante distrazioni da ogni direzione perché gli oscuri vogliono tenerti distratto confuso e ansioso in modo che tu non faccia nulla il passaggio dalla terza dimensione alla quinta dimensione è in corso ed è un momento fantastico per tutti noi da vivere è tempo che tu aumenti la tua frequenza con questa energia di quinta dimensione e ti lasci alle spalle la realtà tridimensionale che hai creato per te stesso per eoni questa energia luminosa ti aiuterà ad aumentare la tua frequenza e superare la vecchia programmazione ammatrice forse ora più che mai è fondamentale rimanere concentrati sul tuo lavoro interiore è lì che sperimenterai la maggior crescita ed espansione in questa vita non puoi combattere ciò che sta accadendo nel mondo è come cercare di combattere un'onda oceanica invece concentrati sull'aumentare la tua frequenza in modo da poter iniziare a sperimentare la vita in dimensioni superiori man mano che evolvi anche tutto ciò che ti circonda cambierà compreso il mondo cosmico in questo momento stiamo assistendo a cambiamenti drammatici in corso sulla terra può essere inquietante assistere a questi eventi ma ora è importante non essere distratti dal tuo lavoro interiore devi far risplendere la tua luce ancora più luminosa di prima una sfera protettiva di energie di quinta dimensione circonda il sistema solare in modo che sia immune a qualsiasi influenza o disturbo esterno lo scopo di questa bolla è proteggere l'intero sistema solare dalle forze oscure che stanno ancora cercando di impedire una transizione pacifica verso le dimensioni superiori niente di ciò che accade nel mondo cosmico può penetrare questa potente protezione questa transizione è inevitabile poiché la maggior parte delle altre galassie ha già completato la propria ascensione grazie a tutti grazie a tutti